buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo di equilibrio lo faremo in maniera dinamica quindi ci muoveremo in maniera costante come sempre chi avesse bisogno stia pure vicino ad un supporto quello andremo a fare sarà piano piano con gli occhi chiusi quindi percependo bene i piedi arrotondare la schiena rilassarla scivolare verso il basso un po come se volessi toccare il pavimento e poi piano piano torno su non è ovviamente necessario toccare il pavimento così come non è necessario tenere le gambe stese le posso anche tenere morbide quello ci interessa è la percezione del peso soprattutto i piedi sono alla distanza delle anche quindi non dico siano uniti ma non sono neanche molto distanti cerco di tenerli a una distanza pari a quella delle anche e iniziamo percependo bene i piedi sento bene dove si scarica il peso e lentamente chiudendo gli occhi inizio a scivolare verso il basso piano 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 gli occhi rimangono chiusi continuo a mantenere la percezione di dove si scarica il peso sotto i piedi e stop si scioglie tutto sciolgo bene scuoto un po' di le gambe e lo andiamo di nuovo a ripetere i piedi come abbiamo detto sono abbastanza vicini non dico in contatto ma abbiamo detto neanche molto aperti mi concentro bene sulla percezione dei piedi e chiudendo gli occhi incomincio piano piano a scendere e lentamente risalgo mantengo sempre la percezione dei piedi di condividere i piedi e chiudendo i piedi e riuscii continuo ad e poi possiamo sciogliere nuovamente la posizione prenderci qualche momento di quiete sciogliendo le gambe lo andremo a ripetere un'ultima volta ci posizioniamo dunque e incominciamo piano piano chiudendo gli occhi a scendere verso il basso grazie e poi usciamo anche da questa posizione scuotiamo bene le gambe ed anche per oggi la nostra breve lezione è terminata noi dunque ci diamo appuntamento a domani per una nuova pillola di benessere grazie a tutti